Da quando ho conosciuto l'arte, Sacella è andata a una prigione. Rappresenteremo sulle tavole del nostro parco scenico un'opera di Shakespeare in Giulio Cesare. Guantario Bonetti, nato in 16971. Quanti secoli a venire vedranno rappresentata da Tori questa nostra grandiosa scena. Il regno non ancora nato, il linguaggio non ancora inventato. E quante volte Cesare dovrà sanguinare sui sceni di teatro, come anche qui, oggi, in questo nostro carcere. E' brutto i suoi amici, su un uomo ne devo nulla. Grazie.